...con Selene Gandini e Marco Usai per parlare di Romeo Giulietta, questo classico di William Shakespeare qui al Ghione dall'11 al 16 febbraio. Cara Selene, tu sei anche la regista di questo spettacolo. Io sono la regista, sì. Esatto, e parlaci di Romeo Giulietta, la quintessenza dell'amore. La quintessenza dell'amore, la quintessenza anche della fragilità di una società che è un po' fragile, e quindi abbiamo voluto immaginare una gabbia, in questa gabbia come se tutti i personaggi fossero degli animali, degli uccelli in gabbia, che riescono a vivere le proprie emozioni con difficoltà ovviamente. Certo, certo. E quindi insomma è tutto improntato su una gabbia, all'interno di questa gabbia troviamo tutti i personaggi che appunto si amano, si odiano, si riconoscono come anime. Parliamo ai giovani, questa è una cosa a cui tengo tantissimo, uno spettacolo fatto da giovani, per i giovani, perché è un testo, ma non solo per i giovani, però è un testo che vuole veramente avvicinare anche i giovani al teatro, perché ci sia una immedesimazione. Qui con me abbiamo Marco Usai, che è il nostro frate, frate Lorenzo. Grazie per la presentazione bellissima, frate. Sono veramente molto contento soprattutto che sia stato riconfermato per il secondo anno questo spettacolo, perché è andato molto bene l'anno scorso, e la particolarità di questo frate Lorenzo, che ha cercato Selene, è di rendere un frate che sia un po' un emblema anche di un padre spirituale, però pieno della crisi anche attuale, contemporanea, che tutti stiamo vivendo. Con molta umanità. Anche in questo caso è un frate, un frate Lorenzo, con una grande fragilità, sempre dalla parte di Romè e Giulietta, dei più giovani. Allora Selene, il casta. Il casta è numerosissimo, Agostina Magnosi e la nostra Giulietta, che ha 15 anni, lo voglio ricordare perché è particolare ed è bravissima, è un vero talento. È un talento straordinario. Poi abbiamo Federico Occhipinti, che è il nostro Romeo, e poi abbiamo tantissimi giovani, ma abbiamo anche attori professionisti straordinari, come Marta Nuti, Caterina Gramaglia, Fabrizio Raggi, sono attori meravigliosi, che sono contenta che abbiano aderito a questo progetto, a questa avventura. Sono felicissima del mio cast. Grande impegno da parte 2 come regista. Impegno, però devo dire con grande soddisfazione. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, Serene Gandini, Marco Usai, Romeo e Giulietta, esattamente dall'11 al 16 febbraio. Ragazzi, grazie e in bocca al lupo. Grazie, grazie al lupo.